e come alcuni di voi sapranno insomma è cambiato il programma perché Massimo Causo che avrebbe dovuto parlare oggi è stato chiamato urgentemente a Torino, sapete insomma è stato rifondato il festival di Torino, è stata rifondata la giuria e quindi Massimo è stato chiamato lì e quindi abbiamo invertito un appuntamento, quindi anziché parlare e vedere un film di Verastacul oggi, vedremo un film di Lantimos, regista greco, mentre invece l'incontro con Massimo Causo e con Verastacul slitta al 21 febbraio che è l'ultimo giorno della rassegna. Oggi invece parliamo appunto di Lantimos che è uno dei registi di cui abbiamo scritto nel volume da cui partiamo per questa rassegna, è un regista greco abbastanza giovane nonché produttore ed è morto Angelopoulos il punto di riferimento fondamentale per tutta la cinematografia greca ma direi addirittura per tutta la cultura di sinistra greca. Stiamo parlando di un regista che ha fatto, ve lo dirà meglio Michele Sardone, ma è un regista che veramente ha cominciato a fare cinema a costo zero, quindi utilizzando cineprese da catto con una produzione quasi inesistente eccetera. Eppure è riuscito a essere incisivo e secondo me, poi magari ne discutiamo con Michele perché forse lui non è d'accordo con me, ma addirittura più incisivo dello stesso Aneke. Stiamo più o meno, siamo dalle stesse parti di Aneke o di un altro austriaco come Seidl di cui vedremo un film appunto in questa rassegna, vedremo Import-Export. Quindi stiamo parlando di un regista greco che però in qualche modo assume la cinematografia mitteleuropea, cioè un modo di fare cinema che è tipico dei cineasti tedeschi, austriaci, ungheresi. Però lui è greco, è mediterraneo e questa è una cosa molto indicativa, cioè che un regista del bacino mediterraneo riesca a superare anche un regista come Aneke per esempio. Stasera vedremo non Alpis come avevamo annunciato, ma vedremo quello che è il capolavoro di Lantimos, che è Chino Dontas. Uno perché ci è sembrato più coerente mostrare il miglior Lantimos e d'altra parte perché il DVD che noi stavamo aspettando dall'Inghilterra non è ancora arrivato e comunque avremmo dovuto sottotitolarlo e non c'era il tempo materiale. Tanto meglio perché lo proietteremo sicuramente prossimamente ma probabilmente a livello propedeutico è addirittura meglio perché possiamo assistere a quello che in molti considerano il capolavoro di Lantimos. Un film che stranamente vedrete perché poi dico stranamente è stato addirittura preso in considerazione per gli Oscar nel 2009. Io vi do appuntamento al prossimo incontro che è con Simone Emiliani e con un film inedito, assolutamente inedito di ASEIA di cui il 17 gennaio, cioè giovedì prossimo, esce in Italia il suo ultimo film proiettato a Venezia. Quindi sarà interessante vedere nello stesso periodo, non è una cosa causale, abbiamo messo Simone Emiliani direttore di Saggi proprio in corrispondenza dell'uscita di Apreme che è il film inedito in Italia, ci sarà Simone Emiliani che introdurrà questo grande regista francese. Io do la parola a Michele Sardone che è critico cinematografico per la rivista Uzzac, Uzzac.it, nonché autore del saggio sull'Antimos presente nel libro Il film in cui nuoto è una febbre, nonché grande esperto del cinema mitteleuropeo e quindi vediamo un po' e dopo avremo comunque occasione di discutere con lui non solo di l'Antimos ma di un modo di fare il cinema che vedrete è un modo che richiama molti altri registi europei. Do la parola a Michele Sardone. Sì, grazie a Luigi, grazie a voi per essere venuti qui. Anche se fuori programma questa proiezione però quando Luigi mi ha avvisato che sarei stato io ad essere il prossimo a introdurre il film, allora ho pensato che c'era una certa contiguità con quanto fatto vedere da Roberto Silvestri nell'ultimo incontro. Non c'era, Roberto Silvestri ha fatto vedere due documentari su due backstage di due diversi film. Uno di questi era il backstage di Terraferma di Crealese. Ebbene, Terraferma di Crealese è stato cantato da una certa critica divulgativa il film sul reale, su un problema attuale, quello dell'immigrazione clandestina. Ebbene, un documentario sul backstage ha fatto vedere come la stessa produzione di Crealese ha sfruttato questi immigrati che avevano delle vere storie di immigrazione clandestina. insomma, questo documentario facendo in qualche modo vedere la stessa macchina cinematografica al lavoro è stato in qualche senso più vero del reale. Insomma, quel reale che una certa critica sviolinistica ha voluto attribuire al film di Crealese. E in questo senso, questo è stato dovuto proprio al fatto che in quel documentario venivano, secondo me, è stato dovuto al fatto che in quel documentario venivano ripresentati i mezzi della produzione delle immagini, le cineprese, si facevano vedere i registi, si facevano parlare le comparse. insomma, come se il vero fosse più vero del reale, semplicemente mostrando quello che c'era dietro, e cioè la macchina cinematografica al lavoro. Tutta questa introduzione per dire cosa? Che nel cinema di Lantimos succede lo stesso, e cioè che sembra più vero del reale il cinema di Lantimos, semplicemente perché la messa in scena è sempre palese. Lantimos ci dice ad ogni scena, guardate, voi state vedendo un film. Lantimos è stato, come giustamente diceva Luigi, è stato il nuovo capofila di una certa nuova leva della cinematografia greca, che vuoi, anche per alcune scelte di mercato, è stata sempre o vista come il... è sempre stata ghettizzata, insomma. Il cinema greco fuori dalla Grecia era o Angelopoulos, oppure certi film greci, un po' folcloristici come Zorbas il greco, insomma, Sirtakia, Volontà. Insomma, fuori da questa ghettizzazione, vuoi elitaristica, vuoi folcloristica, Lantimos è riuscito a proporre una sua cinematografia, ma che è stata anche rappresentativa di un movimento greco, cinematografico, che è riuscito finalmente a mettere in questione lo status ideologico dell'immagine. E faccio riferimento così non solo a Lantimos, che è appunto il capofila di questa nuova leva, ma alla Zangari di Attenberg, oppure a Costa Zappas o a Economides. Insomma, tanti registi sconosciuti che finalmente hanno avuto una certa notorietà, grazie almeno sconosciuto di tutti, che è appunto Giorgos Lantimos, che ha avuto il suo momento di notorietà proprio alla nomination degli Oscar del 2009, quando appunto ha presentato Kino Dantas. Inatteso, diceva Luigi. È vero, è vero, questa nomination direi inattesa, anche perché lo stile di Lantimos, sì, mitteleuropeo, come giustamente diceva Luigi, ma di un mitteleuropeo che sfrizzava l'occhio anche a Bresson, per esempio. Un certo rigore estetico intransigente. E che in Lantimos possiamo ridurre a tre stilemi. Il primo è sicuramente, e lo vedremo in questo film, l'uso della camera fissa, la predilezione per la camera fissa, che però non diventa un long take, come spesso avviene nei film americani. Cioè il long take è una sorta di piano sequenza, però in camera fissa. Poi vedremo che un altro degli stilemi di Lantimos è un certo montaggio tradizionale. E poi, lo noterete anche voi, la quasi assenza della colonna sonora. se, come appunto succede nei film di Bresson, se c'è musica è sempre perché viene o da una radio, o da un televisore, o da un registratore. Quindi la musica è sempre presente in scena, non è mai di sottofondo. Allo stesso modo però, a una seconda visione, a una visione un po' più attenta, potrete notare come Lantimos in qualche maniera riscriva questi stilemi, li riconverta. Classicamente, quando c'è un dialogo, ad esempio, noi vediamo il primo dialogante che parla, il secondo che risponde, e tra una scena e l'altra, tra un'inquadratura e l'altra, insomma, noi in qualche maniera assumiamo la soggettiva di uno dei due dialoganti. È un fenomeno che Zizek ha tradotto con un termine lacaniano, la sutura. E cioè, ciò che in effetti manca nel passaggio da un'inquadratura all'altra, da un primo piano all'altro dei due dialoganti, viene suturato, così dice Zizek, dalla immedesimazione dello stesso spettatore. E in Lantimos questa cosa viene un po' modificata, perché noi a un certo punto lo vedremo, non accade sempre, però è una sua particolarità. Vedremo un dialogante che parla, crediamo di assumere la soggettiva dell'altro dialogante e in un certo momento ci accorgiamo che il dialogante, il secondo dialogante entra da un altro punto dell'inquadratura, inaspettato, centrato. In un certo modo è come se noi venissimo esclusi dalla immedesimazione. Se quello spazio filmico che veniva suturato dall'immedesimazione è come se venisse lasciato aperto. E quindi noi entriamo nello spazio filmico, perché l'immedesimazione ormai è un meccanismo quasi automatico quando vediamo un film che ci prende. Eppure rimaniamo munti, non assumiamo alcun punto di vista, nessuno del punto di vista dei due dialoganti. Cosa succede però? Succede che a questo meccanismo ne viene subito incrociato un altro. Non c'è appunto la musica di sottofondo. Di sottofondo, in Kinodontas, ma anche in Kinet, c'è una voce. Una voce che appunto come un sottofondo è quasi ipnotico, ritornerà molto spesso, ma è soprattutto una voce che modifica il senso delle parole. Lo vedrete subito nella prima scena, mi dispiace rovinare un po' l'inizio del film che è veramente significativo. Però insomma, no, 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 ho già finito, ho già finito. Ho già finito. Solo la prima scena, me la concedete. Solo la prima scena. Insomma, vedrete questa voce che quasi, che non soltanto cambia il significato dei lemmi che poi via via elenca, ma assume a sua volta la soggettiva della camera. È un personaggio in scena che esprime un punto di vista esterno allo spazio filmico, quello spazio filmico in cui noi invece siamo introiettati. È come se questa voce venisse dal di fuori anche al nostro spazio filmico, a quello che noi abbiamo creato in sintonia con lo schermo. E quindi è una voce che riguarda anche noi, che parla anche a noi, che vuole in qualche maniera condizionare anche il senso che noi attribuiremo alle parole. Qui nel film di Kino Dontas questa voce è la voce del potere. È la voce che in maniera arbitraria, ma poi vedremo, se magari avremo la pazienza più tardi di colloquare insieme, vedremo che non è poi così arbitrario la scelta dei lemmi da modificare e il significato da attribuire loro. Questa voce del potere che torna continuamente nel film. E insomma ci riecheggia storie un po' tristi di sistemi totalitari, come giustamente ricordava Luigi, il film greco. Quindi subito certa critica ha pensato al regime dei colonnelli. Io amplierei un po' il senso di questo totalitarismo, lo amplierei un totalitarismo proprio novecentesco, storico. Un totalitarismo che divideva subito esterno ed interno. All'interno del regime totalitario i buoni, all'esterno i cattivi. In questo rapporto, in questa traduzione, da ciò che è esterno a ciò che è interno, vi è il rovesciamento dei significati. Non aggiungo altro su questo meccanismo, poi magari lascio a voi il piacere di decodificare tutti i lemmi. Però che cosa succede? In questa traduzione dall'esterno all'interno, succede che a un certo punto irrompe l'immaginario, irrompe un nuovo sistema linguistico non più fatto di parole, ma fatto appunto di immagini. È un sistema che almeno ha parole, o almeno nel proprio proposito, vuole in qualche maniera opporsi, mettersi in maniera antitetica al sistema linguistico totalitario interno. E quindi uno dei personaggi assume questo nuovo sistema, questo nuovo sistema dell'immaginario. Cosa succede? L'immaginario diventa produttore di immagini e queste immagini vanno a incidere nella realtà. Ora, fuori di film, ci capita insomma di assistere a delle situazioni nella vita quotidiana che ci sembrano come dei topos televisivi, dei dialoghi che non hanno alcun riferimento nel reale, ma che ci sembra già di aver rivisto o già di aver ascoltato in una dimensione che di solito noi consideriamo fuori dalla realtà. Eppure questa dimensione fuori dalla realtà, produttrice di immagini, l'immaginario, è a tempo stesso produttrice di realtà. E al tempo stesso questo nuovo immaginario che si pone, che almeno si presenta come profondamente libertario, che pone l'individuo, la libertà dell'individuo al centro del proprio pensiero ideologico, al tempo stesso nel film di Lantimos si vedrà bene, è produttore anche di individualità. Ci viene il sospetto vedendo il film di Lantimos che l'individualità in realtà sia qualcosa di vuoto, che è plasmabile esogena, in maniera esogena, scusate, in maniera esogena, da qualsiasi nuovo sistema di potere linguistico. Allora, è come cadere dalla padella alla braccia, no? Si passa da un sistema totalitario linguistico a uno che si presenta fortemente libertario e invece è pari a quello totalitarista. Insomma, pone un nuovo totalitarismo dell'immagine. Ebbene, in ogni film di Lantimos, e lo vedremo anche qui, a mettere in crisi qualsiasi sistema è proprio un atto violento, la comparsa del sangue. lo vedremo qui in Chinetta, in Chinodontas. Se qualcuno di voi ha già visto Chinetta, è successo anche lì un film, anche quello, Chinetta, sulla riproposizione di scene di morte. Se in Chinodontas a essere riprodotta è sempre una scena che viene da un immaginario o altro, in Chinetta questa alterità è data da scene di morte. Ebbene, l'immagine cruenta mette in tilt in qualche modo il sistema. Perché nel sistema non è previsto alcun sentore di morte. Non è prevista la caducità dell'umano. L'immagine presentandosi come, appunto, eternità. L'immagine, diceva, l'immagine ponendosi come proposizione formale esatta, perfetta, incorruttibile e anche al tempo stesso qualcosa che va al di là della morte. Ebbene, reintroducendo il sentore di morte, qualsiasi sistema totalitarista, sia esso fortemente liberticida, sia esso fortemente libertario, almeno a parole, viene in crisi. Allora, sciogliendo un po' di cupezza che vedo sui vostri volti, è possibile uscire da questo sistema? Probabilmente sì. L'antimos non ci dice come. E però ci dice che l'atto violento, l'atto cruento, in un sistema totalitario, è imprescindibile, è inevitabile. Poi sta a noi, allo spettatore, capire come andare oltre. Prima di cominciare, una piccola nota tecnica. La splendida copia che abbiamo stasera ha però dei sottotitoli in inglese. Quindi voi vedrete parte dei sottotitoli in inglese, però sopra vedrete una fascia nera con dentro i sottotitoli in italiano. Quindi i sottotitoli sono in italiano, però fate caso a quelli dentro la striscia nera, non a quelli fuori che sono invece in inglese. Quindi c'è la DOI per sottotitoli in inglese, insomma.